E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ormai la mia puntualità mi fa quasi paura, oserei dire. Incredibile, solo 6 minuti di ritardo. Sto migliorando, lo so, sto migliorando. Non dovete neanche dirmelo. Che dire, questo bitcoin ci sta un po' prendendo alla sprovvista, ma ha fatto chiudere la mia copertura short e poi ha fatto un bel falso movimento in piena regola. Ma se vi ricordate dal live dell'ultima volta, l'avevamo detto, era uno un po' dei rischi del mestiere. Quando si vuole andare ad aprire o anche chiudere posizioni in anticipazione, lo sappiamo, insomma, possiamo andare incontro alla possibilità di falso movimento e abbiamo però il guadagno della maggior velocità. Altrimenti c'è la cautela che in questo caso ci avrebbe salvato, però se invece bitcoin avesse continuato a risalire verso l'alto, ci avrebbe fatto incassare una perdita abbastanza importante. Come vedete non esiste mai il trade perfetto, no? C'è sempre da fare, da scendere un po' a compromessi, altrimenti sarebbe troppo facile. Bene, noi oggi siamo qui, come al solito, per andare a dare un'occhiatina a quello che succede nel mondo cripto. Io, per rispondere alle vostre domande, potete osservare i grafici insieme a voi. Ovviamente andremo a dare una bella occhiata a bitcoin perché dopo il movimento di oggi, insomma, le cose si potrebbero mettere anche un po' maluccio. Dipende tutto da che cosa combina adesso in questa ulteriore fase ribassista. Se quello lì si conferma un lower high, non benissimo, oserei dire. Quindi bisogna stare molto, molto attenti. È un momento critico. Ultimamente è sempre un momento critico per un motivo o per l'altro. Infatti mi avete preso in giro per i titoli perché vi dico sempre dipende tutto da qui. Vabbè, un po' lo ammetto. Un po' di clickbait ce lo metto dentro. Però, di fatto, continuo ad andare a prendere a zucate dei livelli chiave e, insomma, poi l'approccio con quei livelli lì deve, cioè, fa decidere che direzione prendere ai nostri trade. Fa decidere un po' che scenario seguire. Anche oggi potrebbe succedere un po' di tutto come vi dicevo in base a quello che combina soprattutto in approccio sempre con l'area 48-49000 quella benedetta area. Comunque, a questo ci arriviamo dopo perché il grafico, sapete, lo guardiamo verso la fine. Intanto che scaldate i motori e cominciate a buttare giù un paio di domande che tra poco leggerò io vi butto lì qualche notizia che ho recepito in questi giorni. La prima riguarda questo survey questo sondaggio che è stato fatto da Goldman Sachs ai suoi clienti principali intesi per capitale cioè non è stato fatto alla casalinga di Voghera per capirci ma è stato fatto ai fondi che sono clienti di Goldman Sachs ai cosiddetti high net worth individuals ovvero gli individui con tanto capitale con tanti risparmi fondi pensione insomma, ripeto, clienti dotati di parecchio capitale e le domande sono state un po' inerenti il mondo delle crypto nel senso cosa ne pensassero se fossero esposti o no in crypto nei loro portafogli e delle proiezioni future che vabbè, sfera di cristallo alla mano però fanno capire un po' qual è il sentiment anche di persone comunque con capitali importanti. Le risposte come vedete da questa immagine super JPEG ad altissima risoluzione che in realtà è talmente sgranata che non so che razza di screenshot sia il 40% di coloro che hanno risposto a questo sondaggio attualmente sono esposti in crypto e di questo 40% il 41% sul mercato spot cosa vuol dire? vuol dire che ha acquistato direttamente bitcoin e magari li detiene mi auguro nel loro wallet l'alternativa al mercato spot è utilizzare dei prodotti derivati come quello di grayscale come i futures della CME e altri strumenti appunto di questo tipo mercato di derivati contro mercato spot il 61% di coloro che hanno risposto invece si aspetta di incrementare i suoi holding nel settore nel comparto digital asset nei prossimi 1-2 anni quindi hanno una proiezione di esporsi un po' di più la cosa che li blocca di più vi spoilerò già uno dei punti finali è la mancanza punto tra l'altro sul quale io sono completamente d'accordo è la mancanza di una chiara regolamentazione loro dicono a me spavento una cosa il fatto che c'è ancora un po' di ombra soprattutto in alcuni stati quindi non si sa bene come gestirli come trattarli in America ormai c'è da dire che il framework è abbastanza definito però in tanti altri stati no e questo dal punto di vista globale comunque dà ancora un tono di incertezza a bitcoin noi lo stiamo vivendo in prima persona perché in Italia ci si fa sempre queste domande è difficile capire si va un po' a interpretazioni e questo è male perché se ci fosse una regolamentazione non opprimente ovvio che ti dice bitcoin si tratta così si dichiara cosa ha le entrate in bitcoin si dichiarano così il mining è questo il trading è quello benissimo tutti tranquilli che si fanno le cose per bene e non si teme di finire nell'antiriciclaggio sotto obiettivo dell'antiriciclaggio del fisco per evasione per dichiarazioni fatte male cose di questo tipo ovviamente un investitore che ha grossi capitali si preoccupa molto di più di queste tematiche rispetto al retail che ci vuole mettere i suoi mille cinque mila diecimila euro è normale prima di investire dei milioni uno vuole farlo nella maniera più corretta possibile e quindi loro dicono a noi spaventa la mancanza di regolamentazioni capillari proprio perché lo rende ancora un investimento non per tutti ecco questo è un po' il discorso che fanno in ogni caso ripeto sfera di cristallo alla mano nel momento delle predizioni il 54% di loro ha risposto dicendo scusate tra i 40 i 100k tra 12 mesi e il 22% sono mega bullish e dicono sopra i 100k entro 12 mesi poi voglio sentire le vostre di predizioni magari facciamo anche un bel sondaggio chi lo sa allora poi questa era una notizia l'altra purtroppo non so se l'avete letta l'ho condivisa poco fa su telegram perché mi è stata segnalata tra l'altro da un amico della community da uno di voi che ringrazio grazie Giacomo e sostanzialmente Nexo ha abbassato i tassi di interesse attenzione perché ha introdotto i fixed terms che sono dei depositi vincolati simili a quelli di crypto.com per capirci con un vincolo di un mese per le crypto e tre mesi per fiat stable ok quindi non si può scegliere quanto vincolarle il vincolo è fisso un mese o tre mesi se si scelgono i fixed terms si hanno ancora i tassi di interesse che c'erano prima quindi 8% di base sulle fiat 10% se in token Nexo e poi ci sono tutti i livelli silver, gold e platinum se si detengono i token Nexo mentre se si tiene il flex ovvero quello che tu puoi andare a svincolare in qualsiasi momento il tasso di interesse si è dimezzato aia molto male perché di fatto a me va a fare un po' di casino con il ribilanciamento ci pensavo prima dicevo io facevo il ribilanciamento mensile e adesso se li devo vincolare per tre mesi mi salta devo farlo trimestrale anche sul comparto comunque ce fai perché di fatto io utilizzavo Nexo soprattutto perché loro hanno l'euro danno la possibilità di maturare rendita sull'euro quindi adesso ci devo riflettere il mio primo pensiero è di utilizzarlo lo stesso e di fare i fixed terms e di spostare il ribilanciamento su Nexo trimestralmente magari nel frattempo gestirlo sulle altre ce fai che uso però insomma ci rifletto ci devo riflettere un attimo se è un bene o male io vi dico la verità dal punto di vista dell'integrità dell'azienda io lo posso capire ok perché se magari loro hanno una clientela di un certo tipo soprattutto istituzionale che richiede liquidità comunque per un lungo tempo è difficile continuare ad avere delle entrate uscite imprevedibili no perché magari domani prelevano in 500 dopo domani in 400 tra tre giorni depositano tra quattro giorni prelevano e capite bene che si deve tenere poi una liquidità svincolata libera più alta loro che hanno interesse comunque a massimizzare il profitto prestando quanto più possibile ovviamente gli conviene andare a imporre dei vincoli a chi deposita la liquidità quindi se vi state facendo la domanda è un exit scam o robe del genere no assolutamente no è questionabile come politica perché senza preavviso così insomma vabbè è questionabile ripeto però non si è obbligati a utilizzarlo quindi se non ci piace prelevare da Nexo e andare altrove questo è quanto poi vi scillo vi comincio a scillare un live che sto organizzando per la prossima settimana il giorno giovedì 11 alle ore 18 faremo un live con l'avvocato Carlo Alberto Micheli non so se lo conoscete io vi ho condiviso un suo video recentemente dove parla di bitcoin tasse cripto così e mi avete dato un feedback molto positivo allora io ho detto sa contattiamolo chiediamogli se gli va di fare un live e niente lui è contento e quindi abbiamo deciso di fare una chiacchierata proprio il prossimo giovedì alle 18 dove potrete fargli tutte le domande che volete riguardo a fisco tasse perché lui è un avvocato tributarista e commercialista quindi ne sa abbastanza poi ho visto che sulle cripto si sta documentando quindi sarà interessante come confronto parleremo di come si dichiarano di come si tassano magari toccheremo la defile cefai cercherò di fargli capire ma secondo me lui è smart quindi o lo sa già o lo capisci in fretta come funzionano un po' quelle piattaforme lì e come le si può gestire che dire io vi aspetto qua su youtube il giorno giovedì 11 alle 18 per la chiacchierata su quei noiosissimi temi che sono le tasse poi abbiamo continuato il nostro trading intraday ho aperto un'altra posizione oggi che non è ancora stata fillata però ecco ormai ciao mi sa che l'ho missata brutalmente ma di questo ne parliamo dopo magari quando parliamo di trading adesso io partirei con le vostre domande cosa ne dite io vi voglio belli carichi perché mi sembra proprio che ci sia da esserlo bisogna caricarlo sto bitcoin che ne pensi del cambio di policy degli interessi di nexo è infatti quello che abbiamo appena detto trovo il modo in cui l'hanno annunciato poco onesto e trasparente ti dico guarda anche se lo avessero annunciato con del preavviso tanto tu c'hai i depositi svincolati li avresti tirati via un giorno un altro non cambia molto che dire non essendoci vincoli uno può fare quello che vuole e quindi a voi la scelta a noi la scelta anche io ci rifletterò sul cosa fare non ho ben capito cos'è successo con nexo si sposta tutto oggi oggi è il topic del giorno e il hook riapriamo la copertura short guarda non l'ho ancora aperta perché adesso me la prendo un po' più con calma visto che la situazione è estremamente indecisa estremamente dubbia quindi vorrei proprio capire meglio che intenzioni ha bitcoin e tra poco vi spiego in maniera concreta cosa intendo ma bitcoin cash che fine ha fatto beh non lo so a dire la verità io credo che non abbia mai avuto un inizio più che fine più che parlare di fine però è la classica shitcoin su cui si specula ogni tanto pompa poi non se ne parla mai ecco giusto così ma Tesla e MicroStrategy si salvano solo con bitcoin ma guarda oggi MicroStrategy ha fatto un altro acquisto non ve ne ho nemmeno parlato perché ormai è routine però di quant'era di 20 milioni no 100 milioni non mi ricordo però mi ricordo che ho detto mamma mia Michael ma stai finendo i soldi perché mi pareva fosse forse 10 milioni 100 bitcoin per 10 milioni non mi ricordo non mi giuro non mi ricordo fatto sta che era meno del solito allora ridendo ho detto Michael che è finita non ti danno più la paghetta qua per comprare i bitcoin no scherzi a parte Michael è veramente un grande da stimare per il coraggio che ha nel portare avanti le sue idee ho appena commentato adesso il video di Marco Montemagno che ha detto la sua opinione che condivido abbastanza su Michael Saylor proprio e io ho detto che è inutile secondo me provare a giudicarlo chiedersi se è un folle o se ha ragione o se è un genio perché di fatto è una persona che ha delle idee che non è un pirla perché è super studiato è un imprenditore abbastanza cazzuto oserei dire ha delle idee le ha messe in pratica ha avuto il coraggio di metterle in pratica divulga perché ha formato altre persone cercando di fargli capire le potenzialità che ha bitcoin e perché investire bitcoin investire il cash flow dell'azienda in bitcoin non è un esaltato lui ha delle idee che motivano non solo dicendo il futuro bitcoin via viva bitcoin no è una persona decisamente che sa quello che fa quindi io credo che sarà la storia a definire se avrà ragione o torto e comunque sicuramente verrà ricordato su quello non c'è dubbio ciao Luca potresti spiegarci la differenza tra proof of authority e proof of stake e se secondo te questa tipologia è in contrasto con la linea teorica e etica del bitcoin e il proof of work guarda proof of authority mi trovi abbastanza impreparato me lo devo studiare meglio come algoritmo di consenso so che è quello tipo della Binance Smart Chain e di altre chain simili il proof of stake ti dico la verità non è secondo me in contrasto con l'etica di bitcoin perché si può rendere decentralizzato volendo ethereum 2.0 sta provando a fare un proof of stake decentralizzato e di fatto ci sono centomila e oltre validatori poi è vero che anche lì ci sono i pool i validator pool che poi aggregano gli ether di chi ne ha meno di 32 per fargli il validator a lui però lo stesso vale poi con i mining pool io credo che il proof of stake sia una valida alternativa al proof of work che non per forza deve sacrificarne la decentralizzazione poi ovvio che si va a parlare di delegazione di tutti quei sistemi che finora non hanno funzionato alla EOS per capirci allora lì ovvio si va in verso la centralizzazione se poi si parla anche di BSC della Binance Smart Chain anche quella di fatto è discretamente centralizzata perché abbiamo pochi nodi la maggioranza dei quali è di proprietà di Binance e pertanto la decentralizzazione va un po' a farsi benedire ovvio è ben diverso dal punto di vista della sicurezza attualmente invece mi sento di dire che come il proof of work non ce n'è poco da fare allora allora eccoci qua ciao grande Luke secondo te i movimenti fatti sulle DeFi liquidity farm pool che si poggiano sulla Binance Smart Chain come per esempio Pancake Swap sono visibili da Binance oppure no? nel senso i movimenti degli indirizzi dei contratti sono visibili da Binance? grazie mille sono visibili da tutti in verità perché se tu vai su BSC Scan vedi esattamente come vedi la blockchain Bitcoin la blockchain Ethereum su Etherscan vedi tutti i movimenti tutti gli address è totalmente trasparente poi ovvio bisognerebbe andare a mappare gli address e dire questo address è suo questo è di questo smart contract questo è di Pancake Swap però penso che qualcuno l'abbia già fatto sinceramente ciao Luke dove li prendi i grafici? ma guarda da TradingView tutti questi che vedi utilizzo sempre TradingView che è secondo me il non plus ultra per l'analisi tecnica per i grafici ciao puoi dare una definizione di cosa sia per te un vero DEX? ritieni che i DEX siano il futuro? avranno un mercato diverso dai CEX? guarda riguardo a che cos'è un DEX io ti dico ci stiamo stiamo andando sempre più vicini al modello ideale non so chi di voi è nel mondo cripto da un paio d'anni se vi ricordate EtherDelta e quei primi DEX che abominazioni che erano non so se qualcuno di voi ha mai usato EtherDelta che se sbagliavi a schiacciare una virgola rischiavi di spendere un capitale per una shitcoin perché mettevi uno zero di troppo e robe del genere e adesso si sono fatti dei passi avanti enormi ma non a caso i volumi sui DEX al momento sono in crescita costante se voi andate a vedere guardate vi scillo anche questo sito che mi piace molto theblockcrypto.com sotto data voi trovate no ho cliccato il banner non volevo sotto data voi trovate un sacco di grafici carini su dei dati appunto molto molto interessanti tra i quali sotto DeFi DEX e non custodial potete trovare guardate il volume dei DEX nel tempo e è pazzesco l'andamento perché in febbraio abbiamo fatto nuovi massimi 71 miliardi di volumi sui DEX cioè era una roba veramente inconcepibile fino a neanche fino a quando fino a prima di quest'estate neanche un anno fa è pazzesco è pazzesca la velocità con cui si è mossa questa industria io credo che non si fermerà io credo che ovviamente coesisteranno con quelli centralizzati perché quelli centralizzati avranno sempre dei vantaggi che i DEX non possono avere come l'estrema velocità l'essere custodial alla fine può essere visto anche come un vantaggio perché c'è maggior tutela tra virgolette del cliente che non sa bene cosa fare non è da tutti utilizzare un DEX e quindi io capisco le alternative però i grafici parlano da sé io credo che i volumi sui DEX siano assolutamente destinati a crescere assieme alla crescita tecnologica dei DEX e la nascita di nuovi DEX che secondo me continueranno veramente a crearsene tra l'altro vediamo se c'è qui i derivatives ci sono anche i DEX di prodotti derivati adesso come perpetual protocol e guardate che anche loro hanno dei volumi di tutto rispetto perché si parla di volumi che cubano addirittura cioè delle volte hanno superato i 150 milioni in un giorno non so se mi spiego non so se conoscete perpetual protocol beh di Y di X è meno conosciuto però di fatto ci sono i perpetual su DEX anche quello è un mercato destinato a crescere perché ci sono tutti i vantaggi non custodial no KYC tutte quelle cose lì ecco quindi sicuramente è un mercato destinato a crescere ciao Luca come si crea una copertura short ma guarda aprendo una posizione short utilizzando come collaterale i Bitcoin che detieni quindi banalmente è tutto lì io quello che faccio quando vedo il setup giusto quando vedo il grafico messo in un certo modo in particolare quando vedo dei primi segni di indebolimento della struttura long di medio termine della struttura rialzista di medio termine comincio un pochino alla volta non è che vado tutto subito lì in short coprendo la totalità della posizione però uso ad esempio il 5% dei BTC che holdo per come collaterale per uno short banalissimo così e poi vado a incrementarlo di volta in volta laddove vedo il rafforzarsi delle probabilità a favore di uno scenario di continuazione ribassista tutto lì non è come immaginati che faccio un take profit non cambia nulla dal punto di vista concettuale però di fatto io dal punto di vista contabile me lo gestisco meglio perché sai che ho il mio comparto bitcoin e comunque anche la copertura short non voglio che vada a finire nel comparto liquidità come take profit o euro va nella liquidità no io voglio che rimanga nel comparto bitcoin quindi io copro short ho sempre come collaterale bitcoin e quindi è sempre nel comparto crypto non so se mi sono spiegato però il discorso principale è quello ciao Luke ben ritrovato che ne pensi di engine e axs daresti un'occhiata ai grafici entrambe ottime come progetti engine tra l'altro sta ottenendo risultati pazzeschi perché ho visto che recentemente ha stretto un'altra partnership non mi ricordo con chi ha fatto un pump decisamente mostruoso che l'ha sparato veramente in orbita e ha reso un po' il grafico pericoloso adesso di fatto noi potremmo andare a dire vediamo come chiude la candela settimanale e andiamo a configurare qualcosa sul time frame settimanale perché al momento ripeto il giornaliero ha un pelino intoccabile un pelino esteso quindi ritornando al settimanale se riusciamo a portarci a casa a fine settimana ad esempio i 2200 satoshi quest'area quindi ci chiudiamo sopra secondo me si potrebbe iniziare a riflettere su un eventuale entry che potrebbe essere su una zona di retest ad esempio di questa profondità tac come mai così ampia ma perché di fatto poi dipende tutto da dove chiudiamo però se ad esempio chiudessimo qua insomma questo è un po' vicino come punto e quindi secondo me ci sta a ampliare un po' la possibile forbice di ingresso questo per una posizione capite poco speculativa perché stiamo parlando di time frame settimanale e in ogni caso il primo stop loss utile vedete sarebbe qua sotto e quindi diventa veramente sfavorevole dal punto di vista del rischio rendimento uno può dire beh se perde se mi perde tutto il blocco io stoppo sì però non è proprio uno stop loss da manuale ecco questo è più un entry accumulativo sotto ipotesi di continuazione rialzista per una mossa un po' più speculativa bisognerebbe avvicinarsi un po' di più a questa zona cosa che al momento sembra assolutamente fuori portata oppure attendere una fase un po' di consolidamento che permetta di andare a individuare scusate nuovi livelli chiave sui quali costruire un setup magari sul giornaliero e non sul settimanale sta di fatto che è presto per entrambe le soluzioni quindi stiamo a vedere Axie invece AXS dunque anche lui caspita forse sono correlati magari che il settore gaming vacci a vedere sta di fatto che ha superato i suoi massimi storici Price Discovery Mode On e al momento vede come principale supporto settimanale 4460 SAT in particolare abbiamo anche un bel pool di domanda qua sopra però vista la violenza con cui ha fatto il breakout non lo so a me spaventa un po' entrare in una situazione del genere io di solito quando vedo degli strappi violenti piuttosto preferisco aspettare ripeto che si ribilanci un po' la situazione che con solidi storni insomma vedere dei costrutti di equilibrio non ancora fortissima di razionalità perché altrimenti ci si espone a dei rischi abbastanza importanti rischi di falso movimento rischi di manipolazione perché quando ci sono questi pump noi potremmo sì ripeto entrare in questo pool di liquidità però se poi ti va a fare la punta così ti frega abbastanza e poi anche in questo caso si prospetta un altro problema che è quello dello stop loss perché si potrebbe mettere qua sotto cioè sotto ai precedenti top però di nuovo abbiamo un rischio rendimento che non è proprio dei migliori come dire io non non opererei su un grafico di questo tipo non è non è da me ecco se poi conoscete altre operatività che vi vi ispirano di più su un andamento del genere assolutamente aperto a idee sono sono anche sempre aperto al confronto da quel punto di vista lì sappiatelo nel frattempo bitcoin è in preda alla domanda dai forza fatemi contento una volta ogni tanto perché devi io apro chiudo la mia posizione short di copertura riguardo il giorno dopo boh falso movimento ma no questa non me la dovevi fa questa non ci voleva bitcoin come ho messo nel titolo allora torno da voi torno da voi dove son finito non ho più ciao a tutti prima live dall'altra parte del mondo seguo molto Luca ma dalla Cina gli orari sono un po' proibitivi grande grande ci sono dei viewers da tutto il mondo addirittura dall'Asia grandissimo grandissimo mi fa piacere che ore sono lì tra l'altro adesso quanto cosa c'è tipo 6-8 ore di diffuso orario beh comunque la differita rimane sempre buonasera Luca un'occhiata ad Ethereum e beh secondo te non do un'occhiata a Ethereum ce la diamo dopo però ciao sono un neofita e volevo ringraziarti mi stai aiutando moltissimo posso chiederti cosa ne pensi di Ciliz è troppo tardi per entrare allora innanzitutto benvenuto se sei se hai il tuo primo live e grazie per i complimenti riguardo a Ciliz io ti dico lato fondamentale lo trovo molto speculativo no col discorso del calcio CHZ era col discorso dei fan to che no tutte quelle cose lì mi sembra molto molto speculativo detto questo guarda il grafico è discretamente intoccabile andiamo a cancellare sullo speculativo che ho detto prima intendevo che io non ci investirei per il lungo termine perché insomma mi sembra molto non lo so molto orientato al generare FOMO ecco poi magari mi sbaglio ho un'idea personale riguardo al grafico che ripeto al momento è abbastanza intoccabile ci sono dei livelli interessanti di supporto ad esempio su questi scorsi top settimanali TAC e TAC che poi di fatto non ho ancora ben capito i fan token quale che utilità concreta hanno sono un po' boomer forse su questa cosa non l'ho mai studiato approfonditamente però non l'ho davvero non l'ho mai capito bene concretamente al di là della speculazione e quindi questi sono i livelli i primi livelli di supporto poi volendo ci sono anche le shadows però entrare su una shadow in maniera molto aggressiva dopo un breakout del genere a me spaventa guarda vale esattamente lo stesso discorso che ho fatto poco fa su engine e su axi un grafico del genere non fa per me mi mette a disagio e io preferisco fare un passo indietro e andare a orientarmi altrove se ci interessa la coin ripeto c'è da aspettare un po' di ritracciamento quanto meno perché dopo un'impennata parabolica del genere tendenzialmente non è mai una buona i rischi superano sempre i benefici ecco di entrare in una coin così estesa questo non vuol dire che domani faccio sempre questo disclaimer non vuol dire che domani non aumenta ancora però se si fa una proiezione dei possibili rischi e possibili guadagni di entrare in una coin che ha appena fatto per due per tre quello che è capite bene che è più probabile che storni da qui a un mese rispetto che continui a salire di valore questo è il mio banale punto di vista torno da voi dunque 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 dove siamo finiti buonasera cosa fare con Nexo e ora la domanda del giorno l'abbiamo già detto buonasera Luca sto studiando e usando in prova una piattaforma per fare DCA mi sembra interessante quando puoi vuoi dargli un'occhiata si chiama Delta Badger ci do un'occhiata interessante se si integra con gli exchange magari ti permette di fare DCA ad esempio su Binance con le FI di Binance non sarebbe affatto male pensi che il crollo del settore tech potrebbe portare con sé il mercato cripto io credo proprio di no secondo me sono due cose completamente decorrelate ciao Luca cosa ne pensi di Akash H-A-K-T allora non sei il primo che me lo nomina è mica una coin costruita su Cosmos anche lei non la conosco però non la conosco bene l'ho sentita nominare ma non la conosco bene Luca voglio oldare Bitcoin mi consigli di avviare un pack mensile in questo momento allora io non ti consiglio niente ovviamente però ti posso dire che per il pack per come è strutturato non c'è un momento giusto un momento sbagliato per iniziarlo proprio perché è in ottica di lungo periodo mi raccomando studiatelo bene pensalo bene perché un pack ha senso se appunto dura tanto non se fai un pack di tre mesi perché altrimenti non è un pack però ripeto per come è strutturato per come è intrinsecamente fatto non c'è bisogno di iniziarlo nel punto X o nel punto Y ecco come si mette la barra dei volumi laterale che sto impazzendo allora guarda devi avere trading view pro poi negli indicatori tu vai su profilo volume e metti questo qui è intervallo visibile ok quindi in base a come poi vai a zoomare il grafico si modifica perché l'intervallo visibile ti va a vedere a valutare i volumi per livello di prezzo sull'intervallo visibile che metti tu dove siamo NFY l'hai sentito mi ricorda solo Yarn Finance i primi periodi che cos'è che nifty no l'ho sentito sì però anche quello non ho avuto tempo di approfondirlo sapete che io sulle altcoin non sono un pro sulle ultime poi meno che meno buonasera Luca eccoci come ogni venerdì ai posti di combattimento grande ben ritrovato volevo segnalarti che se BTC continua così fino a domenica avremo la prima Heikinashi rossa da tempi in memory sul settimanale inoltre credo che abbiamo già passato la quinta onda di Elliot guarda io sulle onde di Elliot non sono molto schillato perché non le ho mai utilizzate però sulle Heikinashi potrebbe essere interessante andiamo a vedere su un grafico un po' più pulito andiamo a utilizzare Heikinashi sul settimanale e ah caspita è vero che poi c'è da dire che è già successo non è assolutamente un segnale nefasto per forza però 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 vedete bene che statisticamente quando si sono iniziate a vedere le Heikinashi rosse sul time frame settimanale spesso è iniziato un ritracciamento che comunque è durato magari cioè non è terminato lì non è morto lì ad eccezione della settimana del 25 di gennaio che di fatto ha fatto un po' un caso più anomalo che altro però in passato effettivamente è stato così ottimo spunto grazie e sul mensile invece siamo ben distanti perché guardate pazzesco una volta ridevo con qualcuno parlando di trading bot no diceva noi ci scervelliamo a fare i bot su le pendenze delle medie mobili robe strane e poi tu prendi lei che nasce mensile e quando ce n'è una rossa vendi quando ce n'è una verde compri e alla fine è il miglior trend follower che esista ovviamente non è non è così facile perché le ikinashi sono artificiali come candele però di fatto sono un ottimo indicatore di trend soprattutto sui time frame un po' più ampi come il settimanale e il mensile grazie per la segnalazione molto molto interessante adesso rimetto le mie candeline e rimetto il mio grafico che mamma mia sul time frame mensile fa paura ancora il grafico di bitcoin c'è da dire vabbè sempre questione di punti di vista e di prospettive allora il settimanale invece com'è tal proposito ah bruttino perché guardate che cosa curiosa il livello adesso sto già spoilerando un po' di analisi di grafici ma il livello 49000 che è un cluster il cluster che stiamo tenendo d'occhio è anche un livello di apertura e chiusura settimanale vedete quindi se ci chiudiamo sotto di fatto è ancora più comprimente per la candela attuale vabbè interessante vedere sempre tutte queste confluenze torno da voi cosa ne pensi di mettere usdc in lending su ledger lending ma gli interessi vengono pagati in usdc perché ho capito se non erro vengono pagati in compound allora se non erro utilizza compound di quello ne sono certo se non sbaglio però gli interessi vengono pagati in usdc tu quando utilizzi compound farmi anche comp ora non so esattamente se il se ti fa l'auto l'auto sell dei comp oppure no però mi sembrava di aver capito di sì mi riservo il diritto di andarci a dare un'occhiata però è un ottimo modo nel senso non ci sono degli interessi altissimi adesso non so quanto sono io l'avevo lasciato che era tipo al 5% possiamo andarci a vedere su compound però mi ricordo che non era proprio l'ideale dal punto di vista degli interessi perché c'era c'era di molto meglio supply market usdc 5,27% siamo sempre lì più o meno poi vabbè c'è un 3,54% di comp che però non so come funziona con l'edger sai ci devo andare a vedere ma magari dacci un occhio perché se ti danno cioè di sicuro gli usdc te li danno con quel tasso lì se ti danno anche i comp cioè te li devi vendere se te li auto vendono tanto meglio ecco l'auto farm bene ciao Luca grazie mille per il tuo lavoro credo di aver visto tutti i tuoi video grande grandissimo sei hai usato tutta la tua vita volevo porti una domanda cosa pensi possa accadere stanotte con l'aggiornamento di Binance nel loro messaggio consigliano di chiudere le posizioni per via delle possibili fluttuazioni guarda di solito quando Binance va in manutenzione c'è della volatilità io sconsiglio assolutamente di andare a prendere posizione per cercare di sfruttare la volatilità no no assolutamente no non è cosa e è buona cosa invece togliere degli stop loss stretti togliere posizioni insomma secondo me potrebbe esserci tanta tanta volatilità soprattutto sulle alt perché sappiamo bene che Binance è un po' un mercato soprattutto per le alt la live in contemporanea con Caimi chi guardare no mi spiace è che alla fine non sappiamo mai quando va live uno o l'altro e è sempre un casino ciao Mauro comunque sei un grande guardate anche Mauro che ne vale assolutamente la pena ciao Luca puoi analizzare un attimo dot non capisco se stia ritracciando o meno e fino a quando nel caso allora andiamo a vedere dot dot btc me lo concedi dai concedimelo dot bitcoin eccoci allora 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 beh per adesso va alla grandissima niente da dire pazzesco è ancora cioè sta si facendo un piccolo ritracciamento ma adesso questo facciamo che lo mettiamo verde perché è diventato un bel supporto però di fatto parlare di ritracciamento pesante è ancora presto perché guarda cosa possiamo dire possiamo ancora dire che è sempre valida la struttura higher highs per ora e higher lows cioè higher lows per ora e higher highs invece sì quindi ora bisogna tenere gli occhi aperti su uno la possibile inversione di struttura che in questo caso sarebbe questa area la perdita di quest'area oserei dire perché è il primo livello un po' rilevante no? cioè se ci chiudiamo sotto e lo retestiamo è un po' incrinata la struttura poi ripeto il low se andiamo a fare un lower low e allora qua si parla sì di ritracciamento perché se andiamo a fare il primo segno ripeto è l'inversione qua già è un early sign di inizio ritracciamento poi c'è la conferma successiva che è il lower low poi dopo il lower low va a cercare l'high e con tutta probabilità andrà a trovare un lower high a meno di non fare un falso lower low del tipo faccio un esempio qua c'è il low andiamo a fare così tac giorno dopo tac ecco questo è un falso lower low tipo bitcoin per capirci il movimento che ha fatto bitcoin in questi giorni e quindi questo è un po' il costrutto da tenere sotto controllo ma attenzione il macro è pazzesco è assolutamente bullish questo innescherebbe un piccolo ritracciamento sul breve eventualmente il cui primo target ad esempio potrebbe proprio essere quest'area fino ai 50.000 sat se poi vogliamo andare a vedere anche bitcoin dollaro e ciao bitcoin dollaro polka dot dollaro oggi va così ho in testa bitcoin dunque facciamo dot perp che se non ricordo male su ftx era arrivato per primo e infatti allora se andiamo a vedere dot perp eh guarda curioso questo eh si legge meglio ti dirò anche in questo caso ogni tanto mi sa che vale la pena guardare i grafici in usd guarda che roba qua c'è un bellissimo cluster che funge da supporto e al momento il livello da tenere assolutamente in considerazione per l'eventuale formazione di un costrutto di top vedi tac tac lower low lower high scusate qui è stato fatto attacco ancora al livello di supporto se lo perdiamo ecco qua allora è un segnale di uscita perché è il primo segnale di inversione di fatto lower high equal low una w al contrario rottura del supporto inversione questo è interessante interessante grazie per la segnalazione torno da voi intanto bitcoin bravo 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 bitcoin dai fammi contento fammi contento entro la fine di questo live mi sa che non ce la fa manca poco microstrategy ha fatto un ulteriore acquisto di 10 milioni ecco infatti 10 milioni ma un po' pochino eh cosa ne pensate ormai non mi perdo neanche un live luke qualche settimana fa si è parlato di amazon che potrebbe arrivare con una sua coin davvero se fosse così basterà secondo te la fiducia in un'azienda così forte per investirci al fine di holding la loro amazon managed blockchain non mi sembra così rivoluzionaria vero ma il nome amazon potrebbe essere considerato una base solida guarda se parli della della loro managed blockchain in sostanza è una tu immaginati la possibilità di avere dei nodi ethereum l'infrastruttura ethereum in cloud gestita da amazon cioè tu non ti devi stare a salvare la blockchain a gestire il nodo l'uptime tenerlo sempre sincronizzato lo fa amazon però questo non vuol dire che ha una sua coin attenzione lui mette a disposizione i suoi servizi i suoi web services per gestire le blockchain di chi è interessato esempio a creare un'infrastruttura defi un'applicazione defi senza tutto l'onere di gestire l'hardware di gestire l'infrastruttura stessa ecco ma di pensare solo allo sviluppo questo è il senso del della managed blockchain di amazon però che io sappia il discorso della loro coin non l'ho sentito io quantomeno viva criptomeme italia un saluto a criptomeme italia fanno spaccare in due da ridere noi vi guardo anch'io lo ammetto mi fate molto ridere tutti in portogallo che ha dichiarato che non ci sono tasse sulle cripto è vero il portogallo è cripto friendly da quel punto di vista lì non non tassa il cioè tassa il capital gain ma le cripto non fanno parte dell'imponibile sul capital gain bellissimo un sogno un grandissimo sogno non è l'unico come si dice l'unico paese però è il più vicino alla fine su ethereum cosa hanno deciso e non lo so non ho visto perché oggi c'era il il meeting degli sviluppatori di ethereum dove parlavano dell'ap1559 ma non ho visto poi non ho letto gli highlights ecco devo ancora darci un occhio ve lo condividerò di sicuro buonasera luca da poco che ti segue sono molto interessanti i tuoi video è un piacere guarda mi fa davvero piacere e spero che li troverai sempre interessanti se hai dei feedback assolutamente sono a disposizione cosa ne pensi di xvg è davvero lui verge potresti darci un'occhiata sì andiamo a darci un'occhiata xvg usd t non c'è non c'è su binance c'è xvg btc sì e guarda io ti dico la reputo una shitcoin di per sé il grafico cosa dice ma niente in tutto dai mi rifiuto cioè troppo è una low sat è tutta frammentata volumi pressoché nulli utilità zero io direi proprio che è una shitcoin basta finiamola lì facciamo un super riassunto ok mi spiace non analizzarla più di tanto però non ne vale davvero la pena cioè io ne starei proprio alla larga e basta Luca gentilmente come comportarsi con l'aggiornamento di Binance ecco gran bella domanda che l'avete già chiesto prima io ho detto aspettarsi volatilità quindi adesso non so esattamente a che ora è aspettate che ci guardo su Binance Announcements che sono sono iscritto anche su Telegram dove arrivano tutti gli aggiornamenti di Binance dov'è 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 è sprofondato in basso in ogni caso appunto la volatilità sarà alta quindi attenzione agli stop stretti eccolo qua attenzione agli stop stretti attenzione alle posizioni aperte perché potrebbero succedere potrebbe succedere di ogni si potrebbe buttarsi ma non so tra l'altro se vengono tolte se una delle posizioni spot aperte prima se vengono tolte cioè solo gli ordini intendo dunque eccolo qua alle 2 di notte UTC quindi per noi saranno le 3 futures e opzioni continua normalmente aspettate che vi vi condivido anche il link all'annuncio così ve lo potete anche leggere tac e ve lo faccio vedere anche qua eccoci allora saranno sospesi questi servizi di depositi e prelievi spot e margin trading e tutte queste altre cose qua insomma e dopo l'upgrade ci saranno 30 minuti dove si potranno fare cose mentre comunque il cioè Binance è attivo ma il trading non è attivo non si sa quanto durerà no sì un'ora circa poca roba e qui dice di fare attenzione ovviamente di non fare movimenti in prossimità dell'upgrade perché se fate dei depositi magari non arriva c'è casino e di fare attenzione alla volatilità sì io direi non è sto grande aggiornamento non mi aspetto chissà che cosa è un'ora non è tantissimo però ripeto la volatilità potrebbe essere alta quindi esempio se avete degli entry messi al millimetro o cose del genere o degli stop loss stretti attenzione perché potrebbero essere brasati via una cosa che si potrebbe fare è provare a mettere qualche entry molto in basso su qualche coin così magari ce lo becca chi lo sa che non succeda potrebbe essere un giochino divertente ciao Luca ma è possibile che ci siano poche whale organizzate che pompano e dumpano bitcoin facendo oscillare anche di 3000 in 30 minuti è abbastanza inquietante come cosa ma guarda in verità non è tanto una manipolazione ma è semplicemente l'illiquidità del mercato stesso cioè di fatto se tu hai un mercato che ancora non capitalizza miliardi di miliardi è più facile andarlo a muovere con anche degli ordini localizzati quindi se uno fa dei grossi ordini milionari miliardari te lo va a movimentare ma questo poi vale anche sugli altri mercati però gli altri mercati sono limitati cioè non ti fanno fare certe cose quindi ci sono delle barriere però ripeto è una caratteristica di un mercato naturale non è manipolazione è il funzionamento naturale del mercato ecco piano piano nexo blockfi eccetera abbasseranno gli interessi la cosa migliore hardware wallet ora dimmi te se mi conviene rischiare per il 4% dormire al sicuro sul mio amico ledger guarda sono abbastanza d'accordo nel senso alla fine che dire per il 4% su cui poi devi pagare anche la plusvalenza cioè la devi farti tassare il reddito la rendita non è che sia poi tutta sta cosa non conviene neanche secondo me c'è da dire che c'è la possibilità comunque ci sono altri strumenti che ancora forniscono percentuali più alte e quindi bisogna un po' scegliere ecco c'è la possibilità di scelta sempre ho paura che tutte queste piattaforme cefai diminuiranno drasticamente i tassi di interesse con l'aumento dell'adozione secondo me più il settore esce dall'essere nicchie più diventerà conforme a banca eccetera sono completamente d'accordo io ti dico la verità la penso come te penso che questi tassi di interesse così alti rimarranno soltanto all'inizio cioè in un momento in cui ci sono persone disposte a pagare tanto per avere la liquidità perché c'è poca liquidità quando ci sarà molta più liquidità a disposizione allora capirete bene che ce n'è talmente tanta che non dovranno più picchiarsi per fare chi paga di più quindi pagheranno meno gli istituzionali per prenderla in prestito e di conseguenza i tassi di interesse si abbasseranno è la legge del mercato così come sulle piattaforme DeFi le principali Aave Compound eccetera inizialmente c'erano dei tassi di interesse che erano il triplo di quelli di adesso poi la liquidità aumentata esponenzialmente i tassi di interesse si sono abbassati è un po' la stessa cosa ecco sono d'accordo con te anche la DeFi cioè vedere degli APY del 20-30% è troppo bello per durare non durerà sicuramente non so quanto durerà però non durerà bene amici io adesso giro sui grafici poi torno da voi per le ultime domande quindi non scappate eccola la questione della coin di Amazon è un rumor uscito il 15 febbraio è pubblicato da Coinvest e poi ripreso da Investing se ti interessa ti lascerò il link su Discord vabbè può essere ma lasciamelo il link io penso che sia un rumor insomma basato sul niente però potrebbe essere una notizia interessante allora amici miei cosa ci sta combinando Bitcoin questo non ci voleva questo non ci voleva ma magari questo ci voleva perché oggi lo vedo carico allora di fatto la cosa che non mi è piaciuta e che mi ha fatto un po' come dire storcere il naso è stato questo movimento qui cioè brutto molto brutto questo movimento perché di fatto dopo una bellissima reazione con i minimi cioè aveva fatto tutto da manuale e che lasciava sperare quantomeno ha un po' di respiro un po' di lateralità non subito un falso movimento aveva fatto un approccio veramente da manuale con i 45.000 poi una bella candellona di domanda che è andata ad attaccare il cluster di resistenza sui 49 poi aveva fatto un po' di storno ostacolato dalla domanda perché vedete che gli ha detto no non scendi di nuovo qua sotto poi la domanda di nuovo ha avuto follow up e lì sembrava veramente decisa a riconquistarlo del tutto ma anche la chiusura poi è stata seppur vicina è stata comunque sopra alla resistenza stessa quindi chiusura molto vicina ma sopra vuol dire un po' di indecisione c'era la shadow come vedete più lunga del body e se mi seguite sapete che questo di solito è un parametro che utilizzo per vedere di fatto quanto è direzionale una candela cioè una candela come questa è l'apoteosi della direzionalità una candela come questa è una candela estremamente indecisa una candela come questa al contrario che ha una shadow preponderante rispetto al body è una candela che è più direzionale verso la domanda che verso l'offerta perché di fatto fa vedere che c'è stato un affondo cioè c'è stato un piccolo dip e poi la domanda ha reagito e ha detto no boom 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 recuperiamo recuperiamo e questo è un bel segno un segno che la domanda c'è ok abbiamo fatto il classico sweep come si suol dire con domanda a seguire però non saltiamo i passaggi abbiamo chiuso in questo modo con la shadow lunga con l'indecisione tutto quanto il giorno dopo abbiamo perso il reclaim dei 49.000 e allora qua uno dice boh io avevo chiuso ripeto la mia copertura short all'incirca qua che l'avevo aperta a questo prezzo a 52.000 perché ho detto beh questo è un primo setup long di fatto io la copertura short la chiudo quando vedo un primo setup long sono stato un po' aggressivo ma perché poi mi sono fatto un po' prendere forse dal rischio dalla possibilità che ho visto il rischio di un pump improvviso ho detto caspita mi va a rovinare tutto quello che ho costruito se mi fa un pump del genere e allora l'ho chiusa un po' prematuramente senza aspettare conferma perché ho visto ripeto il setup long che era il nostro cluster il ritracciamento ulteriore la reazione qua sotto candela di domanda follow up di domande chiusura sopra quindi di fatto avevamo fatto un piccolo bottom senza conferma ripeto però era un setup long aggressivo volendo però poi oggi cioè ieri scusate è stato vanificato perché abbiamo avuto un altro attacco addirittura ai 52k e poi l'assorbimento cioè si è presentata dell'offerta ha detto no adesso tocca a me e quindi hanno venduto sell off sell off sell off e siamo arrivati a chiudere di nuovo sotto i 49k oggi c'era stato follow up di offerta il che mi faceva pensare al peggio perché questo rischia di diventare un lower high e non è bello vedere un lower high qui tra poco vi spiego anche il perché e quindi se di fatto adesso continuiamo con l'offerta ahimè mi sa che mi tocca cercare di nuovo la copertura short c'è poco da fare perché continua l'andamento ribassista tuttavia non ho fretta di fare questo perché come vedete è molto indeciso cioè non riesce a capire bene bitcoin in che direzione andare prova ad attaccare in alto viene respinto sta provando ad attaccare in basso viene respinto sembra che si stia congestionando un po' in questa zona no pertanto io preferisco a questo punto aspettare di vedere dei segni un po' più chiari un po' più direzionali prima di prendere posizione perché altrimenti si rischia di cadere di nuovo vittima dei falsi movimenti che è la cosa che mi fa girare le scatole di più in assoluto soprattutto quando appunto a coprire una posizione cioè non ha senso fare correre per coprire una posizione non è una posizione speculativa è una posizione difensiva e quindi non deve essere soggetta a fretta in particolare quello che cerco è una conferma ribassista se per coprire di nuovo la posizione ovvero una conferma che questo è un lower high pertanto noi qua abbiamo il top questo è un lower high in che condizione? se abbiamo del follow up di offerte andiamo a fare un equal low quanto meno cioè quella è la condizione principale per avere un lower high se andiamo a fare quindi un equal low quindi questo diventa una sorta di triangolo ribassista allora io cerco poi il prossimo storno per andare a costruire a cominciare a costruire la posizione di copertura un'altra tecnica per costruire le coperture che vi condivido se vi può interessare è la seguente una volta che si vede la formazione della struttura quindi esempio se oggi chiudiamo qua io posso già iniziarla a costruire oppure aspettare di andare a toccare il equal low quindi andare a gravitare da queste parti siamo arrivati qui ok io cosa faccio te l'ho detto posso aspettare lo storno rialzista per trovare un buon prezzo di carico della copertura oppure fare la cosiddetta time weighted average price ovvero una sorta di pack alcuni exchange permettono di farlo compresso nel tempo anziché fare un pack di un acquisto al mese per arrivare alla nostra posizione predefinita fare una TWAP per l'appunto si chiama con un time span un orizzonte temporale di tre giorni quattro giorni cinque giorni prendere il size che vogliamo andare a impegnare quindi esempio il 5% del capitale complessivo e attivare il TWAP quindi lui ogni 5 minuti 10 minuti ti fa un micro ordine di vendita e ti va a mediare il prezzo è carina come cosa è funzionale in questo caso ti eviti l'eventualità di non avere lo storno rialzista perché se tu aspetti lo storno rialzista dai per scontato che ci sia ma se ti fa l'equal low e poi ti fa subito un dump sono cavolacci amari pertanto se tu arriva l'equal low quindi hai il segnale di fatto di lower high sicuro tu dici bene inizio il mio TWAP compro 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 quindi lui nel giro di tre giorni supponiamo ti va a mediare nel prezzo che ti va a costruire una posizione con un prezzo medio di carico pari al prezzo medio di questi ultimi tre giorni qui che se c'è lo storno bene se invece continua ad ampare si andrà a mediare al ribasso e pace se lateralizza rimane tale quale ovviamente vai a costruire una copertura short quindi di fatto ti esponi al rischio che se ti rimane qui e poi ti pompa perché in realtà non era non è un è un falso ribasso e allora vabbè quello fa sempre parte del gioco però intanto ti costruisci la posizione in maniera più smart ecco e poi che altro dire allora perché ho detto di fare lì quel low per fare il triangolo ribassista e quindi avere la certezza di lower high se al contrario noi qui facciamo ad esempio un low che si trova qua di fatto non abbiamo tutta sta certezza di aver fatto il lower high perché questo low potrebbe ancora far parte di una struttura di questo tipo guardate che casino che c'è su bitcoin quindi di andare a fare una roba del genere e poi ripartire adesso non così tanto magari però fare un breakout e poi creare un bottom più grande di quello che sembrava essere all'inizio quindi ripeto c'è tanta indecisione perché c'è un triangolo rialzista all'interno di un triangolo ribassista ovvero parlando in termini più terra terra abbiamo qui un potenziale setup rialzista sul brevissimo incastonato in una struttura ribassista sul breve perché di fatto abbiamo un ritracciamento in essere delle resistenze vive e dei supporti ceduti e quindi è il tutto ovviamente ancora integrato in un macro estremamente bullish perché il macro nel senso dal punto di vista di lungo termine è rialzista estrema confusione ripeto quindi affrettarsi a prendere una posizione non è così appetibile secondo me io ve l'ho detto come mi comporterò preferisco aspettare lo scenario bullish qual è? beh uno scenario bullish potrebbe essere un higher low qua e quindi andare a fare ripeto questo triangolino rialzista e poi che segue il breakout e questo è lo scenario bullish altrimenti senza neanche fare il low qua andare a fare subito il breakout e abbiamo chiaramente uno scenario bullish poi che altro dire su bitcoin questo è quanto lo scenario bearish invece l'equal low la continuazione ribassista eccetera eccetera andiamo a dare un occhio a ethereum tac ethereum btc ethereum btc oggi ci avevo anche fatto per gioco preso per gioco una posizioncina sul sull'intraday che vediamo se ce l'abbiamo ancora che però l'ho missata era basata sul vedete ve la faccio vedere qua allora vi carico il la configurazione che ho per l'intraday che dovrebbe essere già pronta eccola qua allora io in sostanza andavo a cercare ho visto che vi interessa l'intraday quindi ve lo porto anche in live andavo a cercare visto che c'era sul sull'i time frame che sono le 4 ore c'è stato un bottom qui con domanda molto aggressiva guardate che respinta c'è stata e quindi laddove c'è una una respinta così forte soprattutto guardate anche in passato c'è stata si mostra appunto che è un potenziale costrutto di bottom un potenziale punto di bottom anzi e quindi ci sta a cercare la posizione long fin tanto che questo livello non viene violato cercarla come ormai ho una fissa no sull'intraday se seguite i miei trade che ho condiviso il journal e ve li faccio vedere step by step in sostanza io spesso vedete sweep high sweep liquidità sweep liquidità sweep low sull'intraday sto andando a testare molto questi sweep ok quindi andare a prendere poi sul low time frame che è i 15 minuti ve lo ingrandisco anche un po' qua eccolo vedete l'ultimo punto di low che in questo caso equivaleva anche sulle 4 ore sopra come vedete al bottom locale ho preso l'ultimo punto ho detto bene vado a entrare se sweep a quel punto lì se va a prendere la liquidità stop stretto senza una logica particolare ecco lì devo migliorare secondo me take profit alla prima zona di resistenza passibile di modifiche perché poi in itinere si può tranquillamente modificare in ogni caso l'idea è sempre quella cioè quando sull'intraday ho visto che funziona bene andare a cercare vedete gli sweep guardate anche qui sweep e reverse e spesso succede se si va a incastrare bene tra low time frame e high time frame si ottiene una sequenza di setup interessanti infatti finora sta andando abbastanza bene cioè in realtà non come previsto perché ho sempre modificato i take profit chiusi anticipatamente e in effetti forse lì devo migliorare un po' ma è un percorso che sto intraprendendo con voi proprio del tipo impariamo insieme io parto veramente da una situazione di molto 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 di ignoranza sull'intraday io sapete che non scendo mai sotto il daily quindi per me è tutto un mondo nuovo e basta questo è quanto sul daily di ethereum invece tornando un po' a noi non è cambiato niente dalle analisi scorse perché non c'è direzionalità c'è lateralità e al momento quello che vorrei vedere rimane sempre il reclaim degli 0.0.335 0.0.335 per andare a cercare il long in quel caso lì entrerai long però per adesso siamo in lateralità abbiamo pescato un paio di volte della liquidità sugli 0.0.3 che erano volendo anche un entry anticipatore però io ho preferito aspettare di vedere una reazione più chiara e preferisco ripeto aspettare di vedere un'inversione di struttura un po' più concreta ecco poi one inch mi è saltato lo stop loss basta ho preso il mio stop loss e basta amen è andata adesso domani può pompare tranquillamente e poi 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 basta non sto seguendo altre posizioni su altcoin perché al momento non sono proprio bellissime e poi la dominance è laterale non lo so mi sembra un po' più concentrato su bitcoin il mercato in questo periodo preferisco appunto concentrarmi anche io lì e cercare di costruire bene la mia prossima posizione su di esso vediamo se avete qualche altra domandina volante proprio perché poi vi devo salutare per piacere puoi guardare hbar loom e band letta notizie su hbar edf per la creazione di un sistema di compensazione e credito sul carbonio parliamo di un colosso l'ennesimo che entra in ed era e in effetti ultimamente se ne sente parlare spesso hbar btc il grafico di fatto riflette questo questa cosa perché è un grafico abbastanza positivo andiamo a vedere il settimanale che forse è un po' più chiaro da leggere abbiamo avuto il nostro bottom qua giù con breakout e doppio retest della nostra prima area tempo fa adesso c'è la seconda area di resistenza e anche già la terza vedo che è sotto attacco guardate quindi allora al momento la logica sul time frame settimanale dice che bisognerebbe vedere una chiusura qui o meglio ancora qui sopra una volta avute si può cercare sul daily qualche setup long ecco qui è un po' più pericoloso perché c'è stata già una bella caccia alla liquidità quindi l'ideale sarebbe avere un'altra presa di liquidità con chiusura però ripeto qua sopra e allora si creerebbe questo bottom e ci starebbe a andare ad aprire il long sull'eventuale retest altrimenti rimane più valido questo livello qui e amplia il bottom complessivo e rende ancora più valida poi un'eventuale posizione long speculativa è questa perché se uno poi ci vuole investire perché ritiene che i fondamentali siano buoni non ha senso stare a impazzire dietro ai setup sul grafico ma semplicemente si ragiona con un'altra logica band eravamo rimasti l'avevamo lasciato esattamente dov'è ora perché di fatto noi lo vogliamo vedere sopra i 36005 se vogliamo cercare il setup long perché come vedete c'è un pool di offerta molto interessante molto significativo che va violato se non lo violiamo se non lo assorbiamo questo cioè rimaniamo nella zona qua di compressione di lateralità fino ad allora non è non è appetibile un long ecco e pertanto ripeto la chiusura qua sopra compresa di liquidità qua sopra allora sì che si può cercare il long su base di questo bottom questa sarebbe sempre l'entry area amici bene direi che questo è quanto abbiamo abbiamo chiuso un po' abbiamo fatto un bel po' di analisi anche oggi speriamo che bitcoin ci faccia questo regalino di ritornare un po' più bullish perché davvero lo ripeto questa non ci voleva no scherzi a parte sto facendo un po' troppo dramma però di fatto ci ha fatto questo falso movimento che se poi lo va a confermare a ribasso andiamo avanti ancora con il ritracciamento che due scatole preferisco preferisco quando continua a salire tutti noi lo preferiamo io vi ringrazio per avermi seguito no sono ancora appena arrivato non preoccuparti perché tra poco andiamo ve lo carico su youtube quindi lo potete rivedere in differita su youtube nessun problema ringrazio anche gli abbonati vedo che c'è qualcuno che anche oggi si è abbonato con amazon prime potete abbonarvi al mio canale gratuitamente ma dovete rinnovarlo ogni mese io vi ringrazio di cuore se decidete di farlo perché è un modo per contribuire al mio lavoro e ringraziarmi è un piacere veramente grande amici buona serata a tutti quanti buon weekend state sul pezzo noi ci rivediamo lunedì per tutti gli aggiornamenti ciao a tutti